Questa è il tempo dei matrimoni, una delle mete più gettonate soprattutto dalle coppie straniere rimane Venezia dove quest'anno si sono ritrovate 150 wedding planner da tutta Italia. Un'occasione di confronto sulle nuove tendenze con grandi esperti del settore. Luca Ginetto. Sposarsi a Venezia è il sogno di ogni coppia, un fascino esclusivo che ha catturato le grandi star di Hollywood e porta ogni anno in laguna centinaia di promessi sposi da ogni parte del mondo che per il fatidico sì, si affidano ai wedding planner, gli organizzatori delle cerimonie che provvedono a tutto, permessi, allestimenti, abiti e accessori. Per il ventesimo anno, in occasione dell'iniziativa Sposarsi a Venezia, ideata da Vladimiro Speranzoni, ne sono arrivati ben 150 da tutta Italia per ascoltare soprattutto colui che si definisce l'architetto dei sogni, Angelo Garini. La mia funzione è quella di progettare scenografie, allestimenti, temi decorativi. Il wedding planner è quella persona che segue la realizzazione di tutto quello che serve per il matrimonio, quindi coordinando i vari fornitori, seguendo gli sposi nelle loro scelte e soprattutto ottimizzando il tempo degli sposi e anche il budget che hanno messo a disposizione per il loro matrimonio. Ma quali sono le nuove tendenze? Parlando di colori, la nuova tendenza che propongo per quest'anno è una mescolanza di rosa, arancio e fucsia. Quali invece gli errori da evitare? Gli errori da evitare sono, prima di tutto, quello di creare un evento che non sia una festa per tutti i propri ospiti, ma una festa solo per gli sposi. Poi ci sono le regole che funzionano sempre, mai vestirsi di bianco, mai vestirsi di nero, l'abito lungo solo alla sera, mai al mattino, il cappello fino alle 5, questo per quanto riguarda la moda. Per quanto riguarda invece il galateo, direi che rimaniamo proprio sempre ancorati alla tradizione, quindi molta eleganza, molta raffinatezza e molta educazione.